Diego, è il principe Milito, 1-1 Guarino porta via palla, Pirlo non piacciono prova a puntare da pensare Guarino, è più veloce di girarla arriva in giallo a tira, prova a testo, buffa Diego, Milito, 2-1 si va, si sta male si libera Pirlo, prova a testo ersonic il trato passato, ultimo quadro stiamo tagando a poco, guarda al piede, sempre tagato a poco palazzo, palazzo, buffa da te, Abrigo palazzo, 3-1 Grazie a tutti.